Gli uomini della squadra mobile di Agrigento che lo hanno arrestato hanno dovuto anche salvarlo dal linciaggio. Diversi migranti, che portano ancora i segni delle sue torture, lo hanno riconosciuto a Lampedusa. Perché Akrom, Sam e Ir, trafficanti di uomini di origine ganese, sbarcato sull'isola il 5 marzo scorso, a soli 20 anni è accusato di essere il responsabile di violenze, stupri e sevizie a scopo di estorsione. In Libia, all'interno di una safe house, dove i migranti sono stati rinchiusi con l'inganno di tentare la traversata in mare verso le coste del nostro paese. Si è partito da un quasi linciaggio di questo soggetto. Quando i colleghi sono riusciti a risolvere la rissa e iniziare a cercare di capire i motivi di questa lite, solitamente i migranti sono molto arresti a collaborare. In questo caso, probabilmente per le gravi vicissitudini che avevano subito da parte di questo soggetto, per le gravi lesioni e atti di violenza, siamo riusciti a farci raccontare, verbalizzare e ovviamente riconoscere, con tutti i crismi che la procedura penale richiede, la brutta situazione che avevano vissuto in Libia. Utilizzava acqua bollente e scariche elettriche e al telefono chiamava i familiari delle sue vittime per far ascoltare loro quanto avveniva e convincerli così a pagare un riscatto. Oggi è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla tratta, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.